Bella a tutti e bentore sul mio canale Allora, nello scorso gameplay avevo detto che mi facevo trovare qui davanti la nebbia Di padre Cascogno Sì E l'ho fatto, sono davanti la nebbia ma... Mentre non registravo mi sono fatto qualche... Ehm... Un paggio diciamo Mi sono comprato la lanterna a mano che non serve a niente Il vestito del cacciatore soltanto perché c'aveva più swag E mi sono fatto uno o due livelli Comunque, padre, buongiorno Vaffanculo Vaffanculo Vaffanculo, aspetta E... Io, allora Partendo dal presupposto che ho fatto cerchio Perché l'ho fatto Ecco Devi stare calmo Devi stare calmo Tu devi aspettare che io faccio le cose Capito? No Devi stare molto calmo Altrimenti Se attacchi tutto il giorno io sparo E ti faccio i perry You are a human Vaffanculo Allora vediamo se non bloccassi come l'altra volta Che fai? Con quale? Aspetta, 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 aspetta Allora Buongiorno 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 Oddio Non è che ho fatto troppi livelli 21 stavo al 16 5 livelli non so un cazzo Apri la porta Oh filmatino Arrotolando Mamma mia A me le statue non mi piacciono Sono troppo inquietanti C'è un tizio C'è capo C'è una lanterna Accendi Allora Cathedral World Oh ci sono arrivato Fuck the ponte Bello Amichevole Aspetta un attimo Sei amichevole Yes baby I'm one of it Bene Bene Ho qualcuno che Ah devo una pelle vecchietta Ma non finirà bene Non stavolta Anche alcuni di quelli Che si nascondono Stanno cambiando Ah si? Allora andava da prena vecchieta L'odore pesante del sangue Il ringhio delle belve Sono tutte cose Troppo comuni ora Oh Iarnam è finita Iarnam È finita Però Se trovi qualcuno Che è ancora in sé Ti vuole Chietta Parlagli di questa cappella di Odon Questa cappella di Odon L'incenso Tiene lontane le belve Diffondi la voce Digli di venire qui Se non ti dispiace Ci dispiace? Non ci dispiace Caro Va benissimo Andiamo a prendere la vecchietta Allora Ok Allora sono qui A Cattedral World E C'è un'altra persona Oh no Non mi sono scordata Credi che io sia in debito Ah ma questa è la vecchia Il disastro che si è abbattuto su Iarnam È colpa soltanto di voi Ma come ti permetti? La vostra stirpe Non ti avvicinare Ricordate con chi sei a parlare Ricordate chi ti ha messo al mollo Che come l'ho fatto Ti posso Ah Il cacciatore Grazie Di Dimmi quella vecchia Le hai parlato di questo luogo? Sì sono stato io Certo Quanto a conversazione Mi offrirò Eh naga ragazzi Preferirei sapere che è viva Dai cazzo Trionfo subito Messo Al posto De Incinamento Dai cazzo Dai cazzo Si trovi Quanto Mandalo alla clima Stai tranquillo Ti mando Ti riempio sta casa De gente Sta casa Sta cappella De gente Sta cappella De gente Allora Buongiorno Belli de nonna Non c'è nessun Bello de nonna Oh Bello de nonna Ammazza quanto sei alto Eh io non me l'ho fatto Basso Ho avuto Arco dai Uh Ceno di sangue Belli de nonna Buongiorno Dai c'è un corpo Bello Dove devo andare Dove devo andare Salvo sopra No vado prima Ciao piccioni Come vedete Come vedete Sa molto Molto Ganno Ok E' un altro piccione Ok perfetto Ciottolo Un'anima Conoscenza del folle Eh rimesso là Non era molto Strong Allora 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 Oh bello Che c'è la lanterna Che ma dai Ma che fegno Oh oh Te sta Innanzitutto Te ti sta Bono Ok Una specie di mucca Col campanaccio Al collo Bono Allora Do sto Allora Qua il cancello È chiuso Dimmo un altro Allora Allora Scudo di legno Beh Bellissimo Apre il cancello C'è il dispositivo No Ci sta una culla Col pupo Che il pupo Se ne è andato a fare Una passeggiata E ci sta una sedia Rotelli Per la terza rotella E quella Serva un cazzo Bello Cacolo Ho appena visto Due amici tu Alla dietro Non mi ricchia Perché non l'ho ucciso Io Te lo giuro Ma non è andato Giù Ma è proiettili Oh 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 Bello Sayonara Oggi tutti i perri L'ornidorinco Proiettili mercurio Oh bello C'è un oggetto C'è un antidecacciatore E roba Che è Come scusa Oh 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 Aspetta Non è che mi ammazzi Lasciamolo Oh 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 Ok Oh me ne vado Ho capito C'è qualcosa Che non va Da sta parte Ma non è che Se mi avvicina Troppo ai renghiere Qualcuno si è in casa Qualche vecchietto Piala di sangue Questo è razzeppo Di piala di sangue Sto andando bene Comunque Prendo quel Quel coso Come un segno Che sto andando bene Scusa eh Accendi sta lanterna Su Ah adesso si è Tutta un'altra cosa Una luce Che Non volevo neanche Belli Bello Belli Belli no No Allora Vabbè Oh 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 Carcola i danni Bono Bono Oh oh Ma che Che è I cittadini qua Andavano tutti in palestra Perché ma quanto cazzo Levano Ma dai Ma serio No Non va bene St'armatura non serve a cazzo In tutto il gioco Non c'è un'altra che serve a qualcosa Sono sicuro Bello Perché mi sembra tanto una trappola Ciao Allora 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 C'è una tomba It's a trap I know But let's go Intanto È un pulsantone No Ok Siamo maledetti Oh oh Porca troia E sta buono Deve sta calmo Questo Molto calmo Che faccio La trascino Tipo Perché se Non è qua sotto Se puoi scendere Forse devo aprire questo Devo aprire questo Devo trovare una leva C'è una leva C'è una leva C'è una leva Tu Sto parlando con te Ma che Calcola è È tipo È tipo un prete L'hanno squartato male Però Mi dispiace Scusi Demandatella che ci sta la trappola So sicuro come Come una zucchina Ed è qua Correndo Molto molto Velocemente Verso sud Ok Birri no No birri no Due birri Senti Che mai hai rotto il cazzo Vuoi sparare Vuoi sparare Vuoi sparare Spara Coglione Coglione sei Ah C'è sta la porta Come scusa Ma vicino Apri le gambe Vai giù Vai giù Per le scale Coglione Buongiorno Hello It's me C'è la leva E una cosa Lì giù Vediamo un po' Ah proprio così De cattiveria Sposta tutta la tomba Con Va bene Va benissimo Tranquillo Conoscenza del folle Però c'è un'altra Stradina De qua E come questo Genere di gioco Ci ha insegnato Tocca a farse La strada Da tutte le parti Perché De qua è chiuso E de qua No Allora Buongiorno Buongiorno Ciao Tizio Che me racconti Sei amichevole Sei un cacciatore di belve Vero Sì Sei un cacciatore di belve Allora Anche io ho cominciato In questo modo Ah sì Ti chiedo scusa Chiamami pure Alfred 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 Chiamami pure Batman Allora Cosa mi dici Le nostre prede Possono essere diverse Ma siamo entrambi cacciatori Perché ancora non ti ho seguito Perché sto a pensare di Alfred Oh vuoi collaborare A me va benissimo Collabora Molto bene Oh Molto bene davvero Molto bene davvero Prendi questo Per celebrare il nostro incontro Sto tizio messaggia simpatico Vabbè La caccia alle belve È una pratica sacra Che il buon sangue Ti mostri la via Valar Morghulis Potremmo trovare Forza Che mi susciteresse Tutto dimmi La chiesa della cura È la fonte del sangue curativo È fonte del sangue curativo Beh io sono un semplice cacciatore Non conosco molto bene I meccanismi dell'istituzione Però ho sentito Che il sacro ricettacolo Del sangue curativo È venerato Nella cattedrale principale E che i consiglieri Della vecchia chiesa Risiedono nel livello superiore Di cathedral world Se sei in cerca di sangue curativo E la chiesa è disposta Ad aiutarti Ti conviene Far loro visita Però Oh Il nuovo Birkenworth Birkenworth È un antico Loco di studio E la tomba degli dei Che si trova sotto Yharnam Dovrebbe essere familiare A ogni cacciatore Tempo fa Un gruppo di giovani studiosi Di Birkenworth Ha scoperto un sacro ricettacolo Nei recessi della tomba Questo Ha portato alla fondazione Della chiesa della cura E a tutti i riti Legati al sangue curativo Insinco Da questo punto di vista Tutto ciò che esiste Di sacro a Yharnam Può essere fatto Risalire a Birkenworth Oggi però Quel luogo giace sepolto Da una fitta foresta Abbandonato E in rovina Inoltre La chiesa della cura Ha dichiarato Che Birkenworth È un'area proibita Non è chiaro Quanti di coloro Che vi hanno studiato Siano ancora in vita Ma solo loro Conoscono la parola chiave Che consente Di superarne il portale Ah c'è la parola chiave Addio dunque Grazie È stato un piacere Anche per me Grazie per i tratti di loro Potremmo trovare Forza Addio Che il buono Belli Che si dice? Molto molto bella Se dice Un'anima Una drappola Oh invece no Ok Ho trovato la gemma Eccola Perché qua è tutto spento E fumoso Non mi piace I don't Billy No 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 Rammento Questi Questi sono le cose Che adoro di più Perché servono Per potenziali armi Allora Caro amico mio C'è nessuno? C'è un oggetto? No Ok Pensavo Perché Posso andare tipo Oh Posso risalire di nuovo? Bello Antidote Ah no Non posso risalire Ok Favamo una cosa veloce Scendiamo rapido Ma tanto rapido Oh Bellissimi Buongiorno Inizio la lanterna Bam De lanterna I like Oh Vabbè che schifo Sta roba non serve da niente Sono proprio sicuro Qua non c'è niente Qua non c'è niente E qua c'è un portone Con Esamina Allora facciamo così Torniamo al suo Il cacciatore Ci mettiamo Seduti E vi dico Subito Che Questo gameplay Finisce qui Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un mi piace O mi vedete Iscrivetevi Noi ci vediamo In un prossimo gameplay E Ovviamente Vado direttamente Di là A esaminare la porta Non adesso Ma nel prossimo gameplay E Vi ho detto tutto Bella ragazzi Noi ci vediamo